Oggi parliamo di Futoshi Matsunaga, un uomo giapponese di cui sono sicuro non avete mai sentito parlare, e c'è un motivo. I media giapponesi hanno fatto di tutto per non divulgare questa storia, e altri media addirittura non ne hanno proprio parlato. I particolari di questo caso sono così disturbanti e sadici, che molti investigatori e agenti giapponesi lo hanno definito come uno dei crimini più efferati della storia dell'ultimo secolo. Questa è l'inquietantissima storia di Futoshi Matsunaga. Amici miei buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da Brividi. Non so se è martedì o venerdì, vabbè, questo è martedì o questo è venerdì. Se vi piacciono le cose macabre e paranormali e il true crime, quindi siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, mamma mia, voglio parlarvi di una storia praticamente sconosciuta, proprio per via dei suoi dettagli così macabri, che ve l'assicuro vi faranno venire la pelle d'oca. Oggi torniamo nel mio amato Giappone e non preoccupatevi, non mi sono dimenticato del nostro viaggio insieme lì, anzi. Spero che molto presto potrò condividervi i dettagli, quindi rimanete nei paraggi, sul serio. Comunque, nonostante fino a qualche anno fa il Giappone rientrasse tra i paesi industrializzati con il minor tasso di criminalità, ogni volta che leggiamo di casi di cronaca nera giapponesi rimaniamo a bocca aperta, sconvolti. Basti pensare alla terribile storia di Junko, Junko Furuta, oppure al massaro di Sagamiara, che ormai penso conosciate tutti. È come se i pochi casi di omicidi che avvengono in quel paese racchiudessero tutta la violenza e tutto il sadismo accumulato nella mente delle persone, e di cui di solito non siamo abituati a leggere o assistere. Tutto questo è per dirvi che questa è una storia veramente tosta, sotto ogni aspetto. Parleremo di qualsiasi cosa, davvero, pensate alla cosa più brutta che vi viene in mente, ecco ne parleremo e parleremo anche di peggio. Quindi se siete particolarmente sensibili a certe tematiche, io vi invito a non andare oltre e a prendervi cura della vostra salute mentale. Non come faccio io che mi intrippo con questi casi bruttissimi. Comunque prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video, come questa qua, e in descrizione trovate sia il link che l'offerta della settimana. E ricordate che inserendo il codice Andrew riceverete anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Fatemi sapere come sempre se prendete qualcosa, cosa prendete, taggatemi nelle storie, che mi piace sempre vedere quali sono i vostri acquisti su Pampling, perché molto spesso prendiamo le stesse cose. Detto questo, cominciamo col caso di oggi. Dunque, partiamo dall'inizio. Partiamo dal protagonista di questa storia, Futoshi Matsunaga. Futoshi nasce il 28 aprile del 1961 a Fukuoka, la sesta città più grande del Giappone, ma passa tutta la sua infanzia a Yanagawa, una città di 70.000 abitanti circa, che si trova comunque piuttosto vicino a Fukuoka. Purtroppo non sappiamo quasi nulla sui suoi genitori, se non che erano estremamente benestanti. I soldi per loro non sono mai stati un problema. E anzi, li usavano anche piuttosto spesso per coprire le cavolate che avrebbe fatto Futoshi crescendo. Anche perché la famiglia, oltre a essere ricca, era anche molto influente, che sembra quasi una costante nei casi giapponesi. Tatsuya Ichiashi aveva genitori benestanti e importanti nel mondo della medicina. Il padre di Seisagawa era un importante uomo d'affari. Non so, saranno sicuramente coincidenze, ma mi hanno fatto pensare. Ah, e piccola parentesi, ho fatto un video sia sui Seisagawa tempo fa, che su Tatsuya Ichiashi, quindi magari dopo questo video, se volete andate a recuperarli, vi rilascio nelle schede da qualche parte qua. Non ho ancora capito dove appaiono. Comunque, la prima domanda che mi sono posto, scrivendo il caso, è se i Matsunaga avessero qualche collegamento magari con la Yakuza, la mafia giapponese, perché ci sono alcune cose che davvero non tornano, secondo me. Ma purtroppo sul web ovviamente non si trova nulla a riguardo, quindi immagino che non ci è dato saperlo. Secondo me qualcosa comunque c'entravano, qualche piccolo aggancio c'era, e voi mi direte anche la vostra quando saprete tutto quanto. Futoshi comunque, a scuola, è un ottimo studente, è anche un bambino brillante, sempre con dei voti altissimi, è sempre quello più bravo della classe. Ma oltre alle sue strepitose abilità accademiche, Futoshi ha anche delle abilità sociali strabilianti, nel senso che riesce a fare amicizia anche con i muri. Ha questa capacità di ammaliare i suoi coetanei, e di essere sempre al centro dell'attenzione. Ha anche una sorta di predilizione per sedurre le sue coetanee, che sono tutte perdutamente innamorate di lui, per via della sua personalità così carismatica, estroversa, nonché per le sue abilità scolastiche e sociali. Insomma, un ragazzino modello. Eppure, come sempre, mai giudicare un libro dalla copertina. È proprio vero. Infatti Futoshi, a 17 anni, viene espulso dal suo liceo, e il motivo, secondo me, è abbastanza preoccupante. Futoshi, infatti, aveva intrapreso una relazione con una ragazzina delle scuole medie. Non sono riuscito a trovare esattamente l'età di questa ragazzina, l'età precisa, però possiamo supporre che avesse tra gli 11 e i 14 anni. Comunque, per questo fatto, viene espulso e mandato in un altro liceo, in cui termina regolarmente gli studi, anche con ottimi voti. A 19 anni, però, il ragazzo mette incinta una ragazza, e per la cultura giapponese, ciò che ne consegue solitamente è il matrimonio. Quindi Futoshi sposa questa ragazza, con la quale avrà appunto un bambino. Peccato però che a lui non fregava assolutamente niente, né di essere sposato, né di avere un figlio. Futoshi è nel pieno della sua gioventù, ha appena finito gli studi, con ottimi voti, ha una famiglia ricca e potente, e può avere qualsiasi donna ai suoi piedi. Chi glielo faceva fare di sistemarsi così presso? E con una ragazza e con un bambino di cui in realtà non gli importava nulla, tra l'altro. Che tristezza. Si dice che in quel periodo, infatti, nonostante fosse sposato, avesse ben dieci amanti. E qui davvero io non so, non riesco proprio ad immaginarmelo, come trovasse il tempo di avere tutte queste fidanzate, e di far combaciare tutti i piani, tutti gli incontri. Non lo so, perché una non sapeva dell'esistenza delle altre, cioè ognuna non sapeva l'esistenza delle altre. Comunque, una di queste amanti sarà proprio importante per questa storia, anzi direi fondamentale. E il suo nome è Junko Ogata, di cui devo necessariamente parlarvi. Junko nasce il 25 febbraio 1962 a Kurume, sempre nella prefettura di Fukuoka. Anche lei cresce in una famiglia piuttosto benestante, ma non ho trovato altre informazioni. Viene descritta come una ragazza timida, dolce e molto studiosa. Insomma, la tipica ragazzina giapponese che si sente obbligata a soddisfare le altissime aspettative della famiglia. Perché, come sapete, in Giappone i figli sono spinti tantissimo dai genitori a raggiungere qualsiasi obiettivo, traguardo, sia nella sfera lavorativa che quella scolastica. Ma anche in quella sociale, in realtà. C'è proprio una pressione incredibile da parte dei genitori. In ogni caso, il fatto che fosse una ragazza dolce e timida sono caratteristiche di Junko che fanno riflettere parecchio. Specialmente se consideriamo quello che farà più avanti. Durante gli anni del liceo, comunque, dovete sapere che Junko frequentava lo stesso istituto di Futoshi. O almeno finché lui non è stato espulso. E anche Junko faceva parte di quella schiera di ragazzine perdutamente innamorate di lui. Tuttavia, lei, come abbiamo detto, era una ragazza molto timida e sulle sue. E infatti, durante gli anni di scuola, non viene per nulla notata da Futoshi, che era già circondato da un sacco di altre ragazzine molto più spinte e provocanti rispetto a lei. Nell'ottobre del 1983, i due, dopo alcuni anni, si rincontrano fuori dall'ambiente scolastico. E questa volta, cresciuta, più determinata e più sicura di sé, Junko riesce a sedurre e conquistare Futoshi. Il ragazzo, in effetti, rimane completamente folgorato da lei. Talmente tanto che i due iniziano una vera e propria relazione. Ma ovviamente non aspettatevi che lui, a questo punto, sarebbe diventato fedele. Anzi. E ricordiamoci che in tutto ciò aveva anche le altre amanti, oltre a una moglie e un figlio. Ma siamo solo all'inizio, fidatevi. Se questa cosa vi sembra strana, no. Non è strana, è la cosa meno strana di tutta la storia. Comunque, per fortuna, la moglie di Futoshi non sopportava proprio l'idea che lui se ne fregasse altamente di lei e del loro figlio. E per questo motivo, un giorno decide di fare le valigie e andarsene. Abbandonarlo, prendendo con sé il piccolo. Per fortuna l'ha fatto. Futoshi, in realtà, prova anche a cercarla. Ma per fortuna, veramente, lei non si farà mai più trovare. Il ragazzo, a questo punto, libero, tra virgolette, da sua moglie, può iniziare una vera e propria relazione, a tutti gli effetti, con Junko. Una relazione che, però, molto presto si sarebbe trasformata in qualcosa di estremamente tossico. Tossico e pericoloso. Futoshi, infatti, comincia presto a manipolare mentalmente Junko, riuscendo a trasformarla in un vero e proprio mostro. O forse, facendo emergere il mostro che già era dentro lei. I due, infatti, da semplici fidanzati, diventano complici. Ma non complici nell'amore, complici nei crimini. Ma andiamo con ordine. Sempre in quell'anno, nel 1983, quindi a 22 anni, Futoshi comincia a lavorare per una società che produce dei futon. Praticamente sarebbero delle grosse trapunte da utilizzare come materasso. Solitamente si stendono sul pavimento o sopra un supporto rigido e sono i classici materassi della cultura giapponese, insomma. Comunque, in realtà, il ragazzo non è che lavorava lì come dipendente, ma, a quanto ho capito, era proprio il gestore di questa azienda. Gestiva la società. E quindi era lui ad avere dei dipendenti che lavoravano per lui. Ecco, Futoshi trattava malissimo i suoi dipendenti. Spesso li insultava pesantemente. E addirittura, a volte, gli dava delle scosse elettriche con un taser. Ma solo se non portavano a termine un lavoro nei tempi stabiliti o semplicemente se osavano contraddirlo. Che capopremuroso, eh? Madonna. Trattava i dipendenti come se fossero i suoi stessi. Chiavi. Pare che questi abusi siano andati avanti per un po', anche perché molto probabilmente Futoshi usava il ricatto come arma per spaventare chi lavorava per lui. Queste persone avevano paura e quindi non facevano parola di ciò che succedeva all'interno dell'azienda. Arrivati a questo punto, nonostante le amanti, Futoshi decide di voler a tutti i costi ufficializzare la relazione con Junko. E quindi nel 1984 le chiede di sposarlo. Tuttavia la madre di Junko, una donna chiamata Shizumi, era a conoscenza della brutta reputazione di lui. Perché nonostante suo padre fosse sempre pronto ad aprire il portafoglio per tirarlo fuori dai guai, in città aveva la fama di essere una brutta persona. Si sapeva delle sue tecniche di manipolazione e della sua propensione alla poligamia. Oltre a questo Shizumi comincia a sospettare che lui stesse abusando di sua figlia. E quindi in quel periodo fa di tutto per ostacolare l'unione tra i due. Ma Futoshi ovviamente non intende arrendersi e quindi prende una decisione che fa davvero accapponare la pelle. Un giorno, per convincere la madre di Junko, decide di andare a casa sua. E lo fa mentre né suo marito, un uomo di nome Takashige, né Junko erano in casa. Era da sola. E lui cosa fa? La violenta. Dopo averlo fatto la minaccia dicendole che si avesse parlato con la polizia o si avesse continuato ad ostacolare il suo matrimonio con Junko, allora lui avrebbe ucciso tutta la sua famiglia. Tuttavia Shizumi, nonostante lo spavento, anzi direi il terrore ormai per quell'uomo, decide comunque di confessare tutto alla figlia, a Junko. Nella speranza che a questo punto lei aprisse gli occhi e lasciasse perdere definitivamente quel mostro. Purtroppo però qui iniziano a vedersi i primi frutti della manipolazione subdola di Futoshi perché in qualche modo lui riesce a convincere Junko che tutta la sua famiglia in realtà la odiasse. Dopodiché la costringe a trasferirsi insieme a lui nel suo appartamento. In una fonte è anche riportato che lui ha addirittura detto a Junko che in realtà era stata Shizumi a provocarlo e quindi a volere un rapporto sessuale. E lei ci ha creduto. Tutto perché appunto la sua famiglia la odiava. Futoshi le aveva messo in testa questa cosa quindi non sarebbe stato così improbabile che la sua stessa madre avesse voluto andare a letto col suo promesso sposo. Così, per ripicca perché la odiava. Ecco, sembra assurdo ma lei ci credeva davvero. E questa ancora una volta la dimostrazione è un esempio di quanto la manipolazione possa fare del male, quanto possa plasmare ed essere potente e subdola. E siamo solo all'inizio. Junko effettivamente lascia la casa dei suoi genitori e si trasferisce insieme a Futoshi. Ma lui a questo punto ha un piano ben chiaro in mente. Ormai si era reso conto di essere riuscito a guadagnare diciamo la totale fiducia di Junko che sarebbe diventata tranquillamente un'ottima complice per i suoi futuri crimini. Intanto l'attività di Futon sembra conoscere un discreto successo. Ma adesso si pensa che quella fosse soltanto una copertura per il riciclaggio di denaro e che Futoshi fosse già riuscito a truffare per un valore di 180 milioni di yen che corrisponderebbero circa ad un milione di euro. Un milione di euro degli anni 80, non di adesso. Non so farvi il calcolo con le lire, ci ho provato, ma non ho trovato un convertitore che facesse questa cosa. Ma insomma tantissimi soldi, tantissimi. Penso tipo 10 milioni di euro di adesso almeno, forse anche di più. Ovviamente col passare degli anni comincia ad essere sotto i riflettori della polizia e quindi all'inizio degli anni 90 si trova costretto a rifugiarsi insieme a Junko in un condominio a Kokurakita Ko, sempre non troppo distante da Fukuoka. Da questo momento i due iniziano a seminare vittime senza motivo. La prima è una donna sposata e con tre figli. Futoshi incredibilmente riesce a sedurla e a cominciare una relazione clandestina con lei. Nel 1993 la donna lascia suo marito e si trasferisce insieme ai suoi tre figli nell'appartamento di Futoshi. Quando arriva e vede Junko però rimane un po' perplessa. Chiede all'uomo chi fosse quella donna ma lui ovviamente aveva già la risposta pronta. E dice che Junko era sua sorella e che viveva lì con lui. L'intenzione di Futoshi ovviamente non era quella di stabilirsi definitivamente con questa donna ma di truffarla e storcerle del denaro. Il tutto ovviamente con l'aiuto di sua sorella Junko. A settembre di quell'anno, quindi del 93, uno dei figli della donna muore in circostanze misteriose e purtroppo non verrà mai aperta nessuna indagine su questa morte. Non so davvero il perché. Dato che è molto, molto sospetta. Solo il mese successivo comunque la donna decide di mandare gli altri due figli a vivere con il padre, quindi con il suo ex marito, mentre lei rimane a vivere con Futoshi e Junko. Tutto a posto insomma, più o meno. Dopo essere rimasta sola senza i suoi figli, i due complici riescono a derubarla sottraendole ben 12 milioni di yen, circa 70.000 euro. Nel marzo del 94 poi questa donna muore improvvisamente ma la polizia nonostante nutra dei forti dubbi su Futoshi e Junko non ha abbastanza prove per incriminarli e quindi molto presto il caso viene archiviato e anche questa volta Futoshi riesce a farla franca. Ma nonostante sia riuscito a uscirne pulito, prende comunque la saggia decisione di trasferirsi in modo da allontanarsi un po' dalla polizia locale. Insieme a Junko va a vivere in un appartamento di un palazzo di proprietà di suo padre ed è proprio lì che attirerà la sua seconda preda. Una sera, mentre Futoshi è fuori a passeggiare per la città, conosce una giovane donna di nome Kumio Toraya. L'uomo comincia immediatamente a sedurla e la convince ad andare con lui nel suo appartamento dove ovviamente c'era già Junko ad aspettarli che ancora una volta viene presentata come sua sorella. Kumio cade subito ai piedi di Futoshi per via del suo fascino diciamo che si prende una grandissima cotta per lui. Così i due iniziano una sorta di relazione. Kumio ha 34 anni e ha già una figlia avuta da una precedente relazione ma si invaghisce subito così tanto di Futoshi che in pratica gli rivela moltissimi segreti intimi tra cui anche dei precedenti penali. Futoshi, che fin da subito aveva bene in mente cosa voleva fare decide di utilizzare queste informazioni per ricattarla e, ancora una volta, estorcerle del denaro. Così la donna si ritrova costretta a pagare una quota mensile sia a lui che a Junko per fare in modo che nessuno dei due parlasse. Ma non finisce qui perché oltre a ricattarla e estorcerle dei soldi Futoshi obbliga Kumio a trasferirsi a casa sua insieme a Junko cioè a casa di lei. cioè lui e Junko vanno a casa di Kumio praticamente con la forza. Penso che Futoshi, a questo punto, non volesse proprio farsi trovare, ok? Ha quindi pensato di trasferirsi dalla donna senza che nessuno lo sapesse e Kumio, che dal canto suo era spaventata dalle sue minacce non aveva altra scelta se non a consentire e lasciare che Futoshi e Junko andassero a vivere a casa sua. Le dinamiche all'interno della casa diventano presto molto malsane come se non lo fossero state già dall'inizio. Futoshi, oltre a ricattare continuamente Kumio per i soldi l'obbliga anche a fare sesso insieme a lui e a Junko e a partecipare ai suoi giochi s***i perversi. Se Kumio si rifiutava allora Futoshi la puniva p***andola o dandole delle scosse elettriche. Ma il sadismo e la malattia di Futoshi non si limitavano solo a questo perché molto presto comincia ad abusare anche della figlia di Kumio che allora aveva solo 10 anni. Kumio e sua figlia in pochissimo tempo diventano prigioniere di Futoshi prigioniere nella loro stessa casa e si ritrovano costrette a subire violenze e abusi ogni giorno. Viene inoltre data loro una piccolissima quantità di cibo e molto spesso vengono fatte dormire sul balcone anche quando le temperature all'esterno toccavano i meno 10 gradi. Futoshi inoltre comincia ad umiliare continuamente sia Kumio che sua figlia. Ad esempio impediva loro di utilizzare il bagno e le costringeva ad urinare e defecare dentro delle ciotole. Se per caso avessero sporcato il pavimento allora sarebbero state costrette a mangiare le loro stesse feci. Ma non finisce qui perché oltre alle percose e alle continue umiliazioni Futoshi costringerà anche Kumio ad avere un rapporto con la sua stessa figlia. Queste orribili violenze e torture vanno avanti per ben due anni e dopo due anni il 26 febbraio 1996 Futoshi sta avendo una delle sue solite sessioni perverse insieme a Kumio e a Junko mentre la figlia della donna è a scuola. Quel giorno però esagera più del solito e continua a picchiare e dare delle scosse elettriche fortissime alla povera Kumio che ad un certo punto cade a terra priva di sensi. Dopo averle controllato il posto Futoshi si rende conto che in realtà la donna non era solo svenuta aveva perso la vita. Quando la bimba torna da scuola Futoshi le dice semplicemente che sua madre era morta. Io penso che a questo punto quella povera bambina di cui tra l'altro non dico il vero nome perché non è mai stato rilasciato ma viene chiamata Nori quindi la chiamerò anche io così Nori comunque credo che lei appunto fosse profondamente traumatizzata a questo punto e che si fosse praticamente costruita una realtà alternativa si fosse completamente dissociata dalla realtà ecco. Futoshi comunque realizza subito che avere un cadavere in casa non era proprio la migliore delle idee soprattutto essendo ricercato dalla polizia cioè non ricercato già controllato dalla polizia ma ovviamente non aveva nessuna intenzione di sporcarsi le mani per questo motivo decide di chiedere alla sua complice Junko di fare a pezzi il corpo facendosi però aiutare da Nori cioè immaginate a dieci anni essere costretti a fare una cosa del genere con il corpo della vostra madre insieme ad una tizia che fino a quel momento non aveva fatto altro se non abusare solamente di voi questa storia davvero supera qualsiasi tipo di immaginazione sadica e perversa e purtroppo ragazzi il peggio deve ancora arrivare cosa può esserci di peggiore di questo? non riuscivo neanche ad immaginarlo prima di leggere questo caso però c'è perché Junko fa quello che doveva fare col corpo della povera Kumio sotto lo sguardo della piccola Nori e poi decide di mettere a bollire tutte le parti all'interno di una grande pentola un pezzo per volta però ovviamente non so se lo sapete ma la carne se rimane per molto tempo in acqua a bollire ad un certo punto si sfalda crea una sorta di brodaglia brodaglia di carne e l'obiettivo di Junko era proprio quello di ridurre tutti i pezzi in brodaglia per poi distruggere le ossa in quasi tutte le fonti è riportato che Futoshi abbia poi costretto Nori la bambina a bere un po' di quella brodaglia poi insieme a Junko si erano andati a smaltire il resto nel mare vicino alla penisola di Kunisaki purtroppo Nori torna a casa con Futoshi e Junko dove rimarrà a vivere insieme a loro per gli anni successivi cioè questa bambina non dovrebbero esistere queste cose è proprio una cosa bruttissima non dovrebbe appunto esistere Nori a questo punto è totalmente sotto il controllo dell'uomo che ha palesemente fatto il lavaggio del cervello anche a lei e quindi pensa che sia normale che adesso che non c'era più sua madre Futoshi e Junko fossero i suoi nuovi genitori e lo pensa nonostante tutti e due continuino ad ab**are di lei nel 96 Futoshi trova un'altra vittima un'amica di Kumio la donna che aveva appena ucciso e qui mi sono chiesto ma questa amica non si è chiesta dove cavolo fosse stata Kumio per tutto quel tempo cioè non si era fatta due domande o comunque non ha chiesto a Nori che fine avesse fatto sua madre questa storia mi sconvolge perché sembra che ogni persona vive in un mondo a sé totalmente disconnesso dalla realtà comunque non si sa come Futoshi riesce a sedurre e far innamorare anche questa donna di lui così i due cominciano a frequentarsi dopo alcuni mesi Futoshi le chiede di sposarlo e lei accetta poi la convince in qualche modo ad andare a vivere con lui e lei purtroppo accetta anche questa volta voglio specificare che anche questa donna aveva già una figlia ma anche il suo nome non è mai stato reso pubblico per una questione appunto di privacy non è stato reso pubblico proprio né il nome della figlia né il nome suo o almeno non li ho proprio trovati comunque questa donna si trasferisce insieme a sua figlia nell'appartamento di Futoshi e purtroppo lo scenario si ripete nello stesso identico modo sia la donna che la bimba vengono costrette a subire abusi e violenze di ogni tipo da parte di Futoshi e Junko ogni singolo giorno per ben sette mesi ad un certo punto però la donna perde completamente la testa e nel marzo del 97 decide di scappare saltando da una finestra dal secondo piano saltando si rompe una gamba e alcune costole ma l'adrenalina in quel momento è talmente forte che corre senza fermarsi fino all'ospedale più vicino e denuncia ovviamente subito i fatti alla polizia e qui penso davvero che Futoshi avesse qualche aggancio con la Yakuza perché di questa denuncia la polizia se ne è fatta poco cioè nel senso le accuse sono cadute quasi subito anzi sono state ritirate dalla stessa donna quindi anche questo caso viene subito archiviato penso che il padre di Futoshi anche questa volta abbia aperto il portafoglio per mettere a tacere la cosa in più il modo in cui si comportava Futoshi le estorsioni di denaro, i ricatti il fatto di far pagare una somma ogni mese a Kumio tutte queste cose qua tutto mi fa pensare alla Yakuza però non lo so fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo ad ogni modo la donna e sua figlia per fortuna si salvano con il passare del tempo intanto le tensioni in casa cominciano ad aumentare Futoshi e Junko litigano sempre di più sempre in maniera più violenta così nell'aprile di quell'anno del 97 Junko esce di casa per andare a lavoro ma non fa ritorno scappa letteralmente di casa e sparisce nel nulla Futoshi ovviamente non aveva nessuna intenzione di rinunciare a Junko perché nonostante avesse altri amanti e fosse consapevole di riuscire a conquistare qualsiasi ragazza volesse per qualche cazzo di motivo era comunque abbastanza legato a lei e penso che il motivo sia perché Junko riusciva in qualche modo a tenergli testa nonostante tutto Futoshi quindi si mette alla disperata ricerca della sua Junko la cerca ovunque ma senza successo così alla fine decide di andare a casa dei suoi genitori per vedere se si stesse nascondendoli e vi ricordo che in passato aveva abusato di Shizumi la madre di Junko e ora aveva la faccia tosta di presentarsi a casa sua per chiederle dove fosse sua figlia dopo che era stato proprio lui a spingerla a scappare di casa comunque Futoshi una volta lì si convince del fatto che i genitori della sua amata la stessero nascondendo e sapessero dove si trovava così dice ai due coniugi che sarebbe rimasto lì a casa loro finché Junko non sarebbe tornata l'uomo quindi rimane lì in casa con loro per un'intera settimana una settimana in cui tutti i giorni abusa sessualmente di Shizumi dopo sette giorni però si rende conto che i genitori di Junko davvero non sapevano dove si trovasse la figlia e quindi si fa venire in mente un piano geniale praticamente finge la sua stessa morte e inscena anche un finto funerale obbligando Shizumi e Takashige a reggergli il gioco così facendo Futoshi sapeva bene che Junko avrebbe sentito la notizia della sua morte e sarebbe quindi tornata a casa dei suoi e infatti accade esattamente questo la donna torna a casa e quindi ritorna ad essere prigioniera di Futoshi anche se in tutta questa storia lei è probabilmente la persona che mi lascia più confuso perché non so se definirla vittima o complice cioè sicuramente però Futoshi le aveva fatto un bel lavaggio del cervello comunque nonostante questo Junko non si era mai tirata indietro nemmeno nei crimini più sadici e violenti quindi vi chiedo di darmi le vostre opinioni anche su questo e farmi sapere se secondo voi fosse davvero succube di Futoshi o se sotto sotto anche lei provava piacere a infliggere dolore alle vittime è proprio difficile da capire ma anche solo da immaginare è solo il potere della manipolazione o c'è altro? comunque Futoshi decide di rimanere a casa dei genitori di Junko perché sì, decideva lui dove stare no? altro comportamento che mi fa pensare alla Yakuza ma vabbè, lì in casa, in casa dei genitori della sua amata comincia anche a violentare la sorella di Junko una donna sposata di nome Rieko Futoshi inoltre impone delle regole molto rigide in casa per rendere il tutto ancora più contorto ad esempio, sceglie di razionare il cibo permettendo alla famiglia di mangiarne solo una piccola quantità al giorno e se ci mettevano tanto a finire il cibo allora li puniva con delle scosse elettriche aveva proprio la passione per queste scosse elettriche, mamma mia in qualche modo comunque riesce anche a coinvolgere il marito di Rieko nelle sue toccature un uomo di nome Kazuya che ci tengo a precisare era un agente di polizia oltre a Kazuya trascina anche i due figli di Rieko un bambino di 5 anni di nome Yuki e una bambina di 10 anni di nome Aya nel dicembre del 97, una sera Futoshi comincia ad abusare di Shizumi e di Rieko rispettivamente madre e sorella di Junko e lei cosa pensa di fare invece di intervenire e fermarlo? Junko intendo comincia nel mentre a torturare il suo stesso padre con il taser dandogli continue scosse elettriche e devo puntualizzare che il padre di Junko era un uomo invalido da ormai qualche anno che soffriva anche di problemi cardiaci e lei lo sapeva e purtroppo queste scosse che gli infligge la sua stessa figlia sono troppe il padre di Junko muore quella sera sotto lo sguardo sconvolto di sua moglie Shizumi che aveva appena assistito a sua figlia uccidere suo marito da qui ha un vero e proprio controllo nervoso non ha più intenzione di sottostare alle torture di Futoshi e quindi smette completamente di assecondarlo nelle sue follie nonostante il terrore ma lui ovviamente capisce in fretta che Shizumi stava diventando un problema e quindi il 20 gennaio del 98 ordina a Junko e a Rieko di strangolare la loro stessa madre e purtroppo loro lo fanno ma fidatevi che non siamo ancora arrivati al peggio del peggio perché solo poche settimane dopo costringe Kazuya a fare lo stesso con Rieko e lui lo fa Kazuya strangola sua moglie cioè io davvero non so che poteri avesse Futoshi per soggiogare in questo modo le sue vittime e manipolarle a tal punto è davvero allucinante fatto sta però che a questo punto è Kazuya che comincia a ricattare Futoshi chiedendogli del denaro lo minaccia dicendogli che altrimenti avrebbe raccontato alla polizia di tutti i suoi crimini cioè ai suoi colleghi perché anche lui faceva parte della polizia Futoshi all'inizio asseconda la sua richiesta e gli dà dei soldi ma non passa molto tempo prima che cambi idea e capisce di dover far fuori anche lui così un giorno Futoshi aggredisce Kazuya alle spalle e lo incatena in bagno chiudendolo dentro a chiave e nulla lo lascia lì così fino a quando non muore di fame e di sete e non scherzo quest'uomo era totalmente fuori di testa ogni volta sembra che alzi ancora un po' di più l'asticella una follia veramente non vi ho detto comunque tutti i dettagli sulle indagini riguardo le morti di queste persone semplicemente perché non se ne parla da nessuna parte a questo punto mi chiedo se siano state fatte effettivamente delle indagini a quel tempo cioè sono state fatte dopo ma in quel periodo niente morte tutte queste persone boh nessun sospetto a questo punto credo che delle indagini in quel momento preciso non siano state fatte motivo che avrebbe spinto il Giappone a non volere che questa storia si conoscesse perché ha fallito non si è accorto che uno degli abitanti stava uccidendo a destra e manca e obbligando altre persone ad uccidere comunque a questo punto in casa erano rimasti Futoshi Junko Nori che a questo punto aveva 13 anni e i due figli di Rieko e Kazuya Aya e Yuki poche settimane dopo la morte di Kazuya però Futoshi decide di sbarazzarsi di Yuki perché ad età sua il bambino faceva troppi capricci e stava diventando ingestibile per lui ma come sempre l'uomo è anche troppo ipocrita per farlo con le sue mani e quindi decide di obbligare la sua sorella maggiore Aya ad ucciderlo il 17 maggio mentre Junko tiene fermo il piccolo Aya strangola a morte il suo fratellino poco dopo la morte di Yuki però anche Aya comincia a diventare ingestibile a piangere tutto il tempo e in poche parole a dare problemi e quindi Futoshi e Junko decidono di uccidere anche lei nel giugno dello stesso anno quindi solo un mese dopo l'omicidio di Yuki in casa quindi ora rimangono solo Futoshi Junko e Nori il problema è che i cadaveri in casa si stavano accumulando ed era quindi arrivato il momento di sbarazzarsene i due cominciano a fare a pezzi tutti i corpi uno ad uno e poi come nel loro primo omicidio fanno bollire le parti fino a farle sfaldare completamente per poi gettare i resti nel mare Futoshi però non si ferma qui nel giugno del 2000 riesce a sedurre un'altra donna attirandola a sé con la solita scusa del matrimonio questa donna è una mamma single con due bambini a carico e quindi non serve molto a Futoshi per convincerla a trasferirsi insieme a lui come sempre Junko viene presentata come sua sorella e Nori come sua figlia ma questa donna non si fa convincere facilmente riguardo alla situazione in casa anzi capisce subito che tutta l'atmosfera lì dentro il rapporto tra Futoshi e Junko non fosse proprio una cosa normale no? e il loro rapporto appunto non fosse un rapporto fraterno e cogliendo subito queste stranezze decide di riprendere i bambini e tornare a casa sua evidentemente l'uomo ancora non era riuscito ad attuare le sue suddolissime tecniche manipolatorie Futoshi però non molla e torna da lei con l'obiettivo di riconquistarla diciamo che questa volta decide di puntare tutto sui figli perché in qualche modo riesce a convincere questa donna del fatto che lei da sola non sarebbe mai stata in grado di crescere due bambini senza un lavoro stabile senza entrate fisse e quindi letteralmente le propone anzi le chiede se gli può vendere i suoi figli e ragazzi sembra assurdo ma questa donna accetta vende a Futoshi i suoi due bambini per 20 milioni di yen circa 120.000 euro inizialmente avevo pensato che Futoshi volesse i bambini con sé per continuare con le sue s**iche torture ma straordinariamente no cambiato una nuova persona nel senso che da quando questi due bambini vanno a vivere con lui l'atmosfera in casa cambia completamente e Futoshi e Junko si mettono praticamente a fare i genitori ma se vi ricordate loro non erano soli c'era ancora Nori in casa che ora era in pieno periodo adolescenziale nonché una ragazza con un sacco di traumi ovviamente Nori non prende per niente bene l'arrivo di questi due bambini e comincia quindi a comportarsi come un adolescente ribelle il motivo è che Futoshi e Junko avevano cominciato a riversare tutte le loro attenzioni sui due bambini e non più su di lei Nori ovviamente si sente esclusa ricordiamoci che era una ragazza completamente traumatizzata alienata dalla realtà che ormai vedeva veramente Futoshi e Junko come dei genitori pensava che quello ovvero il rapporto abusante fosse il rapporto genitore figlio comunque Nori arriva al punto di minacciare Futoshi di andare a rivelare tutto alla polizia se non avesse mandato via i due bambini e ovviamente lui non prende affatto bene le minacce decide di chiuderla nella sua stanza Nori a questo punto però prova a fuggire ma viene scoperta dall'uomo che la raggiunge dopo poco tempo e la riporta a casa non sappiamo cosa abbia dovuto subire Nori dopo essere stata beccata a scappare ma penso che Junko e Futoshi si siano accaniti su di lei in qualsiasi modo immaginabile dato che i media giapponesi hanno preferito non rendere pubblici alcuni dettagli comunque sia Nori capisce di non essere più disposta a vivere così sembra quasi che dal primo tentativo di fuga le sia scattato qualcosa in testa ora era cresciuta aveva visto le peggio cose e forse quel bricio di libertà che aveva quasi assaporato tentando di andarsene le aveva fatto aprire gli occhi per cui nel marzo del 2002 tenta di nuovo di fuggire e questa volta corre diretta alla centrale di polizia raccontando tutto proprio qualsiasi cosa la polizia che aspettava solo un pretesto per arrestare i futoshi già da un po' si reca immediatamente a casa sua dove arresta sia lui che giunco per rapimento di minore ma ovviamente quello di cui verranno accusati dopo sarà decisamente peggiore i due bambini che vivevano con loro poi sono stati messi sotto protezione quindi non preoccupatevi come abbiamo detto fin da subito i media giapponesi fanno di tutto per cercare di oscurare di contenere questa storia e non far trappellare troppe informazioni infatti gli articoli iniziali parlano soltanto di rapimento di minore ma quando iniziano a venire fuori i dettagli macabri di questo caso la notizia si diffonde molto rapidamente anche a livello internazionale scioccando letteralmente tutti e come per ogni crimine di coppia che si rispetti ovviamente futoshi e giunco cominciano ad accusarsi a vicenda lui accusa lei di aver commesso tutti i crimini che se ci pensate effettivamente è vero perché futoshi non voleva sporcarsi le mani mai quindi faceva fare tutto a lei e lei lo faceva tuttavia lei accusa lui di essere la mente dietro ad ogni singolo crimine e di averla sempre manipolata fin dall'inizio solo al fine di ottenere quello che voleva nori invece non si prenderà nessuna responsabilità per gli omicidi la polizia non ha mai recuperato i resti dei cadaveri e non ha trovato prove fisiche quindi durante le indagini si sono basati particolarmente e principalmente sulle testimonianze di nori e di giunco i due ad ogni modo vengono processati separatamente e tutti e due vengono accusati della morte di Aya di Yuki di Takashige di Shizumi di Kumio di Rieko e di Kazuya sette persone il 28 settembre 2005 il tribunale distrettuale di Fukuoka ha condannato Matsunaga e giunco a morte per impiccagione la coppia ha anche avuto il coraggio di presentare ricorso contro il verdetto e così il 26 settembre 2007 l'alta corte di Fukuoka ha confermato la sentenza originale di Futoshi ma ha cambiato quella di giunco passando dalla condanna a morte all'ergastolo questo perché Futoshi aveva esercitato controllo su di lei per costringerla ad uccidere Futoshi ancora oggi è in attesa della sua esecuzione e anche giunco sta ancora scontando la sua pena in prigione io ve l'avevo detto questo caso è uno dei peggiori che io abbia mai sentito e non ci sono tante informazioni non sappiamo moltissime delle cose che succedevano in quelle case in quegli anni queste sono proprio tutte le informazioni che ho trovato riguardo a sti due pazzi spero non vi abbiano sconvolti troppo detto questo ragazzi se anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me vi ricordo di lasciare un mi piace al video o non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di e ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una famiglia una bella famigliola felice e incestuosa che vabbè non fa ridere perché vabbè è finita per infatti sfaldarsi questa famiglia in una maniera molto tragica quindi non fa ridere penso che vi interesserà perché ci ho fatto un reel qualche settimana fa e vi ho visti molto incuriositi di sapere di più quindi ecco se volete rimanere nei paraggi ricordate di iscrivervi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao